Ma buonsalve e benvenuti in questo nuovo video! Per l'ultima volta, suppongo, si parla di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie tv facente parte dell'universo di Star Wars, disponibile su Disney+. Parleremo oggi dell'ultimo, il sesto e ultimo episodio, completamente con spoiler, quindi mi raccomando, siete stati avvisati. Allora, che dire? Diciamo che la mia opinione generale sulla serie, ormai la sapete, non è variata più di tanto nel corso degli episodi. A me questa serie è piaciuta, nonostante comunque ci siano delle palesi limitazioni, secondo me, autoimposte da Disney, perché Disney un po' si è scavata la fossa da sola con questa serie tv, ma in generale con tutte le serie tv, quasi tutte, dai, su Disney+. Con questa idea sbagliata in partenza di voler sfruttare soggetti cinematografici per delle serie tv e quindi creando dei prodotti annacquati in una maniera allucinante, Nonostante comunque queste palesi limitazioni, a me la serie ha intrattenuto, mi è piaciuta. Ci sono anche altri problemi come il voler ogni volta forzare la mano con il canon e quindi abbiamo, ne abbiamo già parlato, una Leia che è molto più vicina a Obi-Wan Di quanto lo sia mai stato Luke in episodio 4 e a me il rapporto tra lei e Obi-Wan in questa serie è piaciuto veramente tanto, ma abbiamo anche un Luke che scampa tanto così da un incontro ravvicinato con una spada laser, Non avviene perché sviene prima, scusate il gioco di parole, però è anche quella una bella paraculata, ma ok, abbiamo un Luke che incontra Obi-Wan da bambino, Darth Vader che si scontra con Obi-Wan altre due volte tra episodio 3 ed episodio 4, insomma tante forzature, sta serie si poteva tranquillamente evitare, mettiamola così. È un di più che può piacere come no, a me è anche piaciuto, però il bisogno di sta serie non c'era assolutamente. Il problema però secondo me più grande di questa serie, che ribadisco mi è piaciuta, è stata la scelta di affidare tutto il progetto a una singola persona Per di più di una mediocrità allucinante, ossia Deborah Chao, che non è un cane di regista, però è proprio insipida e tutto ciò che poteva essere una figata assurda In quest'ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi è soltanto vagamente accettabile e caruccio, ma non per via della regia di Deborah Chao, per tutto il resto. Perché lo scontro finale tra Darth Vader e Obi-Wan mi è piaciuto per via delle coreografie, mi è piaciuto anche per via della musica che riarrangia temi vecchi a temi invece nuovi E fatti apposta per la serie in maniera molto ma molto figa, però la regia elimina qualsivoglia tipo di epicità dallo scontro Con sti cavolo di campi lunghi ogni due secondi, tagli continui e anche il fatto che la sequenza d'azione sia stata intervallata più volte da altre scene che riguardano Reva Quello ci sta anche, adesso noi ci arriviamo a parlare di Reva, ma quello ci sta anche, è una cosa che viene fatta molto spesso nei film Per, diciamo, allungare un minimo, per estendere una battaglia che se no sarebbe tipo di 3-4 minuti Viene fatto anche tipo in episodio 3, lo scontro tra Anakin e Obi-Wan in episodio 3 è comunque intervallato da altre scene che riguardano tipo l'Ordine 66 E compagnia bella, Yoda che mena un pochettino di cloni E insomma, avete capito, quello non è il problema, ma proprio la messa in scena dello scontro mi ha lasciato veramente tanto a desiderare Nonostante comunque, ribadisco, ci siano anche alcune cose carucce Come per esempio Darth Vader che riesce a mandare nell'abisso Obi-Wan in modo da stare in alto Quindi avere live ground, esattamente come diceva Obi-Wan in episodio 3 O anche lo scontro finale con Darth Vader che si ritrova con metà casco scoperto Esattamente come è successo in Rebels contro Ahsoka E anche l'idea di unire la voce di Vader a quella di Anakin, quindi in italiano sentiamo Ward e Pezzulli Mi è piaciuta veramente tanto Però a livello di messa in scena tutto il combattimento poteva dare molto ma molto di più nelle mani di un regista Decisamente più capace, così come tutta la serie Io non capisco perché veramente affidare un progetto così importante a Deborah Chow Boh, non ho proprio capito Deborah Chow che ha anche diretto alcune robettine di The Mandalorian Ma non si era mai, non lo so, non era mai spiccata rispetto ad altri registi Ma anche una Bryce Dallas Howard, un Taika Waititi hanno dato molto di più a Star Wars di quanto abbia mai fatto Deborah Chow Poi vabbè c'è anche Jon Favreau e Filoni che a me fanno abbastanza cagare Filoni dal punto di vista delle serie tv animate ancora ancora Ma quando si parla di The Mandalorian il piattume più totale Ma non dobbiamo parlare di questo Arriviamo a parlare appunto delle sequenze che vanno a intervallare lo scontro tra Vader e Obi-Wan Ossia le sequenze che riguardano Reva Reva, ormai abbiamo capito dove vogliono andare a parare con questo personaggio Faranno una serie tv spin-off Ormai dai, è palese L'hanno anche fatta redimere apposta per fartela un minimo piacere in ottica spin-off La domanda è voglio vedere uno spin-off su Reva ma manco per il cazzo Però probabilmente lo faranno perché Disney sta cercando in tutti i modi di mungere il più possibile L'universo di Star Wars Sia ben chiaro non abbiamo ancora l'ufficialità ma lo fanno Dai L'idea di una youngling sopravvissuta all'ordine 66 che diventa inquisitore per vendicarsi di Vader È un'idea fighissima sulla carta ma avrei gestito il tutto in maniera decisamente diversa Per esempio avrei rivelato questa cosa tipo al secondo episodio Dal secondo episodio in modo da avere una sorta di creazione della tensione alla Hitchcock Nel senso che lo spettatore sa esattamente cosa sta succedendo Ma quando Vader e Reva interagiscono si crea una tensione di detto e non detto Molto ma molto figa perché appunto lo spettatore sa che cosa sta succedendo C'è appunto un infiltrato nell'impero Infiltrato per dire diciamo qualcuno che vuole vendicarsi di Vader Ma Vader ancora non lo sa e sarebbe molto ma molto figo Invece qui hanno fatto la cosa più stupida Ossia rendere Reva una rottura di coglioni Allucinante un personaggio assolutamente piatto e cattivo Perché è cattivo per i primi quattro episodi E poi le incomincia a dare spessore dal penultimo episodio in poi Ma io quattro episodi con questa che mi grattugiava l'apparato scrotale Me le sono comunque beccati Quindi che me frega a me di vedere mo l'introspezione di sto personaggio Non è stata gestita al meglio Ora parliamo invece della cosa che mi è piaciuta veramente tanto Perché gestita in maniera certosina secondo me Tranne in un piccolo passaggio Ma adesso ci arriviamo Ossia il fanservice Questa puntata è foderata veramente come non mai di fanservice Però tutto fanservice abbastanza contestualizzato In alcuni casi è proprio leggero Tipo un Vader che dice non sei stato tu a Obi-Wan Dice non sei stato tu a uccidere Anakin L'ho ucciso io E quindi mi contestualizzi la frase detta da Obi-Wan A Luke in episodio 4 Quindi Darth Vader ha ucciso tuo padre Una piccolezza ma mi è piaciuta Oppure il casco diviso a metà Esattamente come è successo in Rebels Hello there A un certo punto Obi-Wan dice Hello there al piccolo Luke Mi ha fatto molto ridere Per poi arrivare a fanservice un pochettino più cicciotto E quindi vediamo Palpatine E anche in questo caso è abbastanza contestualizzato E poi arriviamo al finale dell'episodio vero e proprio Con l'arrivo di Qui-Gon Jinn Ora l'avevamo pronosticato Almeno io l'avevo pronosticato dal primo episodio Anzi dai primi due episodi usciti in contemporanea Che avremmo visto Qui-Gon Jinn nella serie Ora però io mi aspettavo Il nostro caro Liam Neeson In un flashback Non mi aspettavo il fantasma della forza di Qui-Gon Jinn O almeno non dal punto di vista proprio visivo Proprio non mi aspettavo di vedere il fantasma della forza di Qui-Gon Jinn Perché non sono un esperto di Star Wars L'ho detto 50 volte Ma che io sappia Non è possibile vedere Qui-Gon Jinn sotto forma di fantasma della forza Perché no? Ci sono un botto di romanzi che parlano di questo argomento E del fatto che Qui-Gon non possa farla Sta roba Ma può darsi che mi stia sbagliando Non credo Ma in ogni caso sono sicuro che molti di voi ne sapranno più di me Quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti Ora Seconda stagione Si incomincia a rumoreggiare Anche in questo caso non si parla di ufficialità assolutamente E anzi Non so neanche se si farà effettivamente L'annuncio sarebbe stato intelligente farlo nella post-credit Esattamente come era stato fatto con Loki E invece no Non si sa niente di un'eventuale seconda stagione di Obi-Wan Però Parliamone un minimo perché si rumoreggia Cosa potrebbero fare in una seconda stagione di Obi-Wan Posto che se la prima stagione di Obi-Wan è assolutamente superflua Figuriamoci una seconda Lo scontro con Darth Maul è già stato raccontato Quindi Non avrebbe molto senso fare per esempio Una rivisitazione Un reimagining Di quell'avvenimento lì Perché andrebbe un minimo A decanonizzare altri prodotti Non avrebbe neanche tanto senso farla esattamente identica Perché appunto l'abbiamo già vista Io mi aspetto di vedere un Obi-Wan magari in un eventuale spin-off Su Reva Magari vedremo una Reva Sempre Tallonata e inseguita da Darth Vader È un Obi-Wan che l'aiuta Potrebbe essere un'idea Sto dicendo che è una bella idea Assolutamente no Sto dando un pochettino di idee Non mi viene in mente nessun'altra idea Almeno per ora Ma tant'è adesso voglio sapere la vostra Fatemi sapere qua sotto Con un commento Se questo ultimo episodio di Obi-Wan Vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Sono veramente curioso Ma in generale voglio proprio sapere La vostra opinione sulla serie Come vi ho già detto A me è piaciuta Con veramente tantissime riserve Fosse stato un film Sarebbe stato molto Ma ho sputato tantissimo Fosse stato un film Sarebbe stato molto Ma molto meglio Però ci accontentiamo Ormai quando si parla di serie tv su Disney Plus La parola d'ordine è accontentarsi Una persona chiamiamola maliziosa Potrebbe anche dire Ma cazzo io sto pagando Perché mi dovrei accontentare E quella persona avrebbe anche ragione Ma tant'è Noi ci vediamo alla prossima In generale ci vediamo Quando ci vediamo Ciao a tutti ragazzi